Ogni volta che passa la macchina gli schissi mi arrivano fino a dentro casa. Se voi guardate le porte, che ho due porte qua davanti, è un disastro. Poi uscendo qua a piedi il fango, c'è una cosa veramente vergognosa. Basta guardarla, si commenta da sola. Ci viene presentato così lo stato di Via Lombardi nel comune di Fano, una strada a servizio di poche abitazioni alla quale si accede dalla statale adriatica. Ed in effetti potrebbe accaparrarsi il record comunale di buche in così poche decine di metri. Siamo dimenticati, hanno esclamato i residenti al nostro arrivo. Tutti gli appelli ad oggi sono stati inascoltati. Non è niente, quello tra poco peggiorerà, arriveranno le buche che le persone ci vanno dentro, che siamo in un mare di guai. Un problema che non si risolverà mai in quando nessuno si è mai interessato. Ci sentiamo, non dico abbandonati, ma indifferenti alla vita sociale. Siamo privi di un'isola ecologica, ci racconta il signor Nunzio. Dobbiamo arrivare fino al supermercato Crai per gettare la spazzatura, senza considerare che da qui la maggior parte dei residenti anziana ci fa notare. Per non parlare della pericolosità del tratto che dà sulla statale, non c'è uno specchio e per di più viene permessa la sosta delle auto in un lato della carreggiata e quindi quando si esce dalla via è necessario sporgersi con i veicoli, rischiando incidenti. Mancano pure le strisce pedonali e una cartellonistica adeguata. Voi avete inviato anche più lettere per questi alberi? La prima nel 2011, perché è caduto un tronco di queste dimensioni a pochi centimetri da me. Io ho anche un bambino piccolo che per fortuna quel giorno c'ero io fuori. Se ci fosse stato mio figlio, a pochi centimetri. Abbiamo scritto la lettera, abbiamo parlato con il verde e con tutto, però all'epoca ci avevano detto che l'Alma Juventus ha detto no, è responsabilità del Comune. Il Comune ha detto no, è responsabilità dell'Alma Juventus. Anche io ho detto va bene, li tagliero io, taglio io a spese mie. Non è possibile. Ecco, ma questa strada è sempre rimasta così? Sempre. Però prima c'era il mio marito che lui se vedeva una buchina, l'aggiustava subito, dopo che ho avuto l'incidente. È un casino proprio. Dentro casa passano le macchine, nei vetri, i sassi che vengono oltre. È una roba impossibile. Anche camminando, insomma, tutta questa poltiglia malta? Io a lui anche lo vorrei portare fuori, in braccetto. Dove lo porto? Dove lo porto un po'? È proprio stabile. Però un pochino per prendere l'aria, ce lo posso portare. Ma anche se la carrozzina, dove vai? Che entri dentro è un fango. È un casino. Diceva signora che è un pericolo anche per i suoi nipotini. Sì, c'è un nipotino che viene qui da me, va in bicicletta. Gli ha detto anche il signore, l'ha visto proprio cadere perché si cade. Io la pago per due case le tasse. Non lo so, eh? Ho diritto di passare? Mi sono stancata di andare in comune. Una volta, sai cosa mi ha risposto? Ho scelto una via di vecchi. È così, eh? Guarda, lo dico, eh?